Sviluppo economico e turismo al centro dello Yacht Med Festival, la fiera internazionale dell'economia del mare a Gaeta, frutto, ha dichiarato il Presidente abruzzese, di un'importante collaborazione tra le istituzioni. Procede in Commissione Commercio e Artigianato, l'iter per la modifica della legge sugli impianti di distribuzione di carburanti, al centro della discussione la sicurezza degli impianti e la possibile diminuzione di posti di lavoro dovuta all'apertura di nuovi self-service. La proposta di legge sul riordino del Sistema Regionale di Protezione Civile ha ricevuto il parere favorevole dei gruppi comunali e delle associazioni di volontariato ascoltati in Commissione Affari Istituzionali alla Pisana, tra le richieste, sgravi fiscali e più formazione di base. Via libera maggioranza in Commissione Sviluppo Economico alla proposta di legge per rendere in Lazio una regione open data. Il testo, che mira ad aumentare la trasparenza dell'amministrazione regionale, passerà ora l'esame dell'aula.